Siamo qui in compagnia di Roberto Carraro, creatore di applicazioni per tablet e vari strumenti informatici, a cui chiediamo si può parlare di rivoluzione digitale all'interno della scuola? Certamente è in atto una grande fase di discontinuità e di innovazione nel settore scolastico, è una rivoluzione da punti certamente pratico, tecnico, nel senso che i libri vengono sostituiti da nuovi strumenti come i tablet e le lavagne dalle limb, ma è anche culturale perché il modello di apprendimento è nuovo, si parla non più di un modello frontale in cui c'è solo il docente che fa lezione, ma un modello partecipativo in cui tutti collaborano e condividono la conoscenza, abituandosi quindi a quello che succederà nella realtà in cui internet diventerà lo strumento più importante nel mondo del lavoro. è chiaro che gli autori devono fare libri nuovi, libri per esempio sociali, libri multimediali, libri immersivi, coinvolgenti, multisensoriali che in qualche modo coinvolgano in modo nuovo gli studenti nell'apprendimento.